Il personale del commissariato Borgo di Taranto e della Guardia Costiera hanno ispezionato e successivamente sequestrato un'area demagnale marittima di circa 2000 metri quadrati situata nel primo seno del Mar Piccolo, nei pressi del mercato ittico. L'area è risultata occupata in gran parte da rifiuti di ogni genere, da 11 fabbricati in lamiera abusivi utilizzati come depositi di mitili e come laboratori per il loro confezionamento. Le cozze in particolare senza le più elementari norme sanitarie venivano sgusciate e confezionate in baschette, pronte per essere immesse sul mercato ittico. L'operazione ha consentito di verificare l'assoluta mancanza del rispetto delle regole relative all'uso di beni demagnali e le continue violazioni in materia sanitaria nel commercio abusivo di mitili. Prodotti confezionati e senza nessuna remora commercializzati con un serio pericolo per la salute pubblica. Al termine degli accertamenti, tre persone presenti sul posto, sorprese a confezionare i mitili sgusciati, sono state deferite in stato di libertà per i reati di inquinamento ambientale e occupazione abusiva di area demaniale.